5 minuti al termine e nessun gol separa le due squadre Abate, palo e non è finita, attenzione! Ancora 5 minuti da giocare nei supplementari Susso Montolivo E il pallone se ne va via Occhio al suo movimento Occhio al traversone Cross che va a vuoto, palla alla difesa Può portarsi in vantaggio Il gol allo scalere che gli mette in vantaggio Un gol che può probabilmente decidere la gara Sì, credo proprio che non si andrà ai calci di rigore a questo punto La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione La regia si ripropone il gol Sì, credo proprio che non si andrà a questo punto Il gol è un gol 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 Il gol è un gol